Sicuramente è importante organizzare e cominciare a lavorare insieme. Il settore del recupero crediti in un momento difficile per le famiglie deve dare un segnale positivo per chi vuole adempiere le proprie obbligazioni e si trova in un momento di difficoltà. Sono anni che l'associazione dei consumatori, il Codacons, collabora con le autorità, soprattutto nel garante privacy. È importante che un'azienda dia questo segnale di disponibilità a lavorare con le associazioni dei consumatori per essere vicini ai consumatori e ai clienti, per cercare di superare questo momento di difficoltà e per dare un segnale positivo al mercato. Il garante privacy già nel 2005 ha dato delle indicazioni sulle buone attività, le buone prassi nel settore del recupero crediti. Il discorso purtroppo è rimasto fermo al 2005 e sicuramente alcuni episodi messi in evidenza dalla stampa non fanno che danneggiare chi invece vuole operare correttamente nel mercato. Da questo punto di vista il Codacons è disponibile a collaborare con chi vuole rispettare le regole e tutelare effettivamente sia le aziende che i clienti.